Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati in un ennesimo episodio delle Melagol News. Vi dico già subito che probabilmente vedrete mio figlio ogni tanto passeggiare di qua perché sono a casa con lui. Partiamo subito con cose abbastanza caldi per quanto riguarda Ubisoft. Ubisoft ha annunciato attraverso dei tweet e delle immagini, come fece anche CDJ Project Red con Cyberpunk, il rinvio di suoi due titoli importantissimi quali Rainbow Six Quarantine e Far Cry 6. Sono stati rimandati per causa Covid, causa tante cose, disorganizzazione ovviamente, causa lockdown eccetera eccetera. I giochi che sono usciti in questo momento secondo me erano quasi finiti appena scoppiata questa pandemia. Quindi in qualche modo sono riusciti a finirli in lockdown, ok? Il vero problema sarà adesso ragazzi, il vero problema sarà i giochi che usciranno nel 2021. Secondo me abbiamo il rischio davvero davanti, abbiamo la possibilità di vedere veramente praticamente quasi nessun gioco uscire all'inizio, soprattutto i primi sei mesi del 2021. E gli effetti del Covid si vedranno. Quindi Far Cry 6 e Rainbow Six Quarantine sono stati rimandati e data da destinarsi. Far Cry 6 probabilmente deve uscire a febbraio da quel che mi ricordo per nuove console. E uscirà forse, forse entro fine 2021, chi lo sa. Mentre Rainbow Six Quarantine doveva uscire all'anno scorso, forse non mi ricordo, marzo di quest'anno. E non si è più saputo nulla e poi si sono ricordati che era il mio di sviluppo quel gioco e che l'avevano annunciato attraverso un filmato tra l'altro molto figo. E hanno detto ragazzi, qua non c'è pezza. Tra l'altro per quanto riguarda sempre dei rinvii, Cyberpunk l'hanno rinviato. Lo sapete benissimo, dal 19 novembre al 10 dicembre. Ma lo sviluppatore ha risposto in modo un po' strano a una domanda per quanto riguarda Ma è sicuro che uscirà il 10 dicembre? Ha risposto, al momento non siamo sicuri. E quindi probabilmente può subire un altro ritardo. Ma ragazzi ho veramente paura per questa risposta. Perché se dovesse subire ancora un ritardo del genere Cyberpunk, credo che da hype passi a frustrazione. E di conseguenza perderebbe tantissimi soldi, tantissimi ordini e la gente si è rotta le palle ragazzi. Io no, sinceramente. Anche se non vedo l'ora di giocarci ragazzi, però mi scenderebbe tantissimo l'hype. Speriamo di no ragazzi, speriamo che il 10 dicembre questo benedetto gioco esca. FIFA 21 date l'uscita su PlayStation 5 e Xbox Series X. L'uscita di FIFA 21 per Next Gen sarà il 4 dicembre. Ci sarà praticamente una patch. Quindi chiunque sia già in possesso di una copia di FIFA 21 per PlayStation 4 e Xbox One potrà effettuare l'upgrade gratis alle versioni per il PS5, Xbox One e Series X. E quindi tutti i progressi saranno mantenuti sulla stessa famiglia di console. Per le amanti di Destiny 2, sperando che ci siano ancora. Credo che ci siano molto di nicchia. Un leak svela il ritorno di una vecchia ambientazione. Nel corso della serata sono apparse in rete alcune immagini a tema Destiny 2 oltre la luce. L'immagine arriva direttamente dal PlayStation Store e mostra un piccolo gruppo di guardiani con un viaggiatore perfettamente integro sullo sfondo. Come ben sapranno i giocatori del titolo, nel corso degli ultimi archi narrativi l'enorme sfera G grigia ha subito dei grossi danni ed è un momento possibile vedere gli effetti della guerra rossa ogni volta che si fa visitare la torre. Visto che il viaggiatore fa parte dello sfondo, l'immagine lascia quindi intuire che i prossimi capitoli della storia potrebbero fare in modo che i guardiani riportano il viaggiatore ai fasti di uno tempo. Magari proprio grazie ai poteri forniti dalla Stasi. Sì ragazzi, io sono curioso sinceramente di rivedere un po' Destiny. Io credo che lo giocherò quest'anno, non subito. Credo che qualcosina farò. Adesso non so se pubblicamento o meno. Vedremo. Mi piacerebbe un sacco tornare un po' a vedere l'alimentazione. Ciao amore. L'alimentazione di Destiny eccetera ragazzi. È veramente spaziale. Vedremo. È uscito un nuovo trailer di Black Ops Cold War. Non vedo l'ora ragazzi anche quello di giocarlo. Quello lì lo farò in live. Tutta la campagna. Assolutamente. God of War su PS5. Frame rate fino a 60 FPS. Salvataggi trasferibili da PS4. Anche questo, quando finiranno tutte le ambaradame dei videogiochi, io sicuramente rigiocherò God of War per PlayStation 5. E subirà un upgrade bello corposo. Quindi 60 FPS 4K. Con gli stessi dati dei Play 4. Quindi sicuramente farò il New Game Plus su nuove console. Pasmofobia è il fenomeno del momento su Steam. Super Among Us e Cyberpunk 2077. Pensate che ha venduto di più di Baldur's Gate 3, GTA 5, Among Us e Cyberpunk 2077. Arrivo amore, stai mangiando il grissino. Bravo uccellino. Pensate che ha raggiunto un picco di 85.000 persone in contemporanea. A Fasbomb Fabia ragazzi è un progetto molto bello. E vi dico la verità, sono sicuro e spero che non faccia la fine di un Fall Guys ad esempio, che è stato un fuoco di paglia, ok? Continuano a aggiornare, lo stanno continuando ad aggiornare e possa dover diventare un gioco incredibile. Little Nightmare 2 si prepara a tornare. Io ho giocato la demo su Twitch. Incredibile. Non vedo l'ora che esca ragazzi. Le ultime notizie sul sequel apprezzato riservano al mese di agosto. Il gioco è tornato a mostrarci in azione e sembra pronto a portare con sé una cupe dose di sano orrore. Più che orrore è proprio qualcosa di inquietante. Mi trasmette inquietudine quel gioco. Io l'ho giocato in live la notte di Halloween, tutto il primo. Poi la sera prima avevo giocato quello vecchio, quello nuovo, che uscirà comunque a marzo, credo. E non vedo l'ora ragazzi, è molto creepy. Mi dà un senso ansiolitico veramente tanto, forte ragazzi. Quindi non vedo l'ora di provarlo ancora, perché amo quei giochi lì ragazzi, veramente. Silent Hill per PlayStation 5 parla anche Imra Khan. Credibile ma non certo. Imra Khan è un giornalista che si è pronunciato sulla spinosa questione, ma senza sbilanciarsi eccessivamente. Il corso dell'ultimo appuntamento con Kindle Funny Games, quest'ultimo ha definito il rumor in questione come credibili. Evidenziando di essere certo che il team di sviluppo indicato come possibile autore del gioco è effettivamente al lavoro su qualcosa di al momento non annunciato. Quindi probabilmente... Ciao amore uccellino, papà sta disgistrando. Quindi probabilmente ragazzi vedremo Silent Hill su nuove console. Fra due anni, chi lo sa. Speriamo di sì. Abbiamo la grandissima novità che la Kojima Production sta assumendo personale per la produzione di un nuovo gioco ancora misterioso a tutti. Uscirà probabilmente Final Fantasy XVI nel 2021. Sarà forse un'esclusiva per PlayStation 5. E come ultima notizia principale diamo forse una motivazione valida al perché Cyberpunk 2077 è stato rinviato. Nonostante non si sapeva con sicurezza, sembra che Cyberpunk 2077 sia stato rinviato per colpa della versione pre-play 4 Xbox One, che sarebbe ancora da finalizzare. Ancora non ha fornito ufficialmente appunto le motivazioni. E si è stato nuovamente rinviato per colpa delle versioni PS4 Xbox One. Durante la conference call per spiegare le motivazioni del rinvio, infatti i massimi dirigenti dello sviluppatore polacco avrebbe ammesso che il problema sarebbe la versione current geng. Ancora da finalizzare. E che amore. Che sicuramente è un gioco... Ciao ciao, ciao luce. Sicuramente è un gioco fatto per nuove console e PC, quindi NVIDIA 3000 e 8090 eccetera eccetera. E quindi probabilmente adattarlo alle console vecchie probabilmente avrebbe dato un po' di problemi. Giustamente non lasciando indietro nessuno, vuole fare le cose perfette. Chiudiamola qua ragazzi, speriamo che sia così. Signore, questo episodio del news finisce qua. Vi aspetto in questi giorni sul mio canale Twitch per giocare ad Assassin's Creed insieme su Xbox One X. Poi dopo ci sarà la campagna di Call of Duty e poi andremo avanti nei vari giochi che usciranno. E soprattutto l'unboxing della PlayStation 5 in live, spero di riuscire a farla. Signore, vi ringrazio, un bacione e lascio la parola al motore. Bella raga. Grazie mille Gabbo per le notizie in ambito videogames. Andiamo a vedere cosa ha interessato il nostro mondo, quindi il mondo dell'hardware e delle notizie in generale. Partiamo da una notizia molto importante che riguarda Electronic Arts, che ha visto finalmente risolvere un'annosa controversia con associazioni in difesa dei consumatori, come ad esempio Altro Consumo, per quanto riguarda gli account in game di giochi molto popolari come FIFA 21 e Apex Legends. Electronic Arts ha voluto collaborare molto positivamente con queste associazioni di consumo. La collaborazione tra Electronic Arts e queste associazioni ha portato all'implementazione di nuove regole. All'interno di questi giochi, quindi dei giochi targati Electronic Arts, sarà adesso possibile creare tre tipi di account differenti. Un account di tipo bambini, riferito a ragazzi al di sotto dei 16 anni di età. Questi tipi di profili non avranno multiplayer e non potranno effettuare in alcun modo acquisti in game. Un account di tipo adolescenti, per ragazzi di età compresa fra i 16 e i 18 anni. Questi tipi di account potranno giocare online senza limitazioni, ma non possono effettuare acquisti, a differenza di prima dove il limite era fissato in 25€. Infine, l'account di tipo adulti, riservato ovviamente a persone di maggiore età, che non avrà limiti né nel gioco online né nell'acquisto di microtransazioni, quindi di skin, di pacchetti o di tutto ciò che concerne l'acquisto di pacchetti in game all'interno dei giochi di Electronic Arts. L'account genitore, che controllerà i profili bambini e i profili adolescenti, potrà di volta in volta andare a decidere o di cambiare i permessi a suo piacimento, oppure di inserire un tetto massimo di spesa per ogni singolo account. L'antitrust si è sentita pienamente soddisfatta da queste nuove regole che ha implementato Electronic Arts all'interno dei propri videogames. Grossi cambiamenti anche in casa Ubisoft, dove le due applicazioni utilizzate finora, Uplay da una parte e Ubisoft Club dall'altra, andranno a fondersi in Ubisoft Connect, tutto ciò a pochissime settimane dal lancio della nuova generazione. Che cosa va a cambiare per i giocatori con Ubisoft Connect? Beh, sicuramente è un'interfaccia di tipo universale, quindi permetterà innanzitutto di acquistare nuovi giochi, di lanciare i giochi di casa Ubisoft direttamente, di tenere sotto occhio i propri progressi, aggiungere amici, contattare amici, leggere le notizie che Ubisoft vorrà dare ai propri giocatori. Quindi diventa un'interfaccia universale lanciabile da PC e dalle console di nuova e di vecchia generazione. Notizia molto importante nell'ambito degli esports, per la prima volta nella storia del nostro paese, un team interamente italiano, il team Tempra, si qualifica all'European League per il prossimo 6th Major di Rainbow Six Siege. Quindi il nostro team italiano, a cui va tutto il nostro supporto e tutto il nostro tifo, ha guadagnato il diritto di sfidare i BDS Esports, il team Empire e Virtus Pro nel prossimo 6th Major di novembre 2020, quindi nel prossimo mese. In bocca al lupo al team Tempra, che batte bandiera italiana, e speriamo di vederli qualificati nella Final 16 di Rainbow Six Siege. Prosegue senza esclusione di colpi la guerra di Activision con i cheater. Dopo i primi 20.000 utenti bannati a fine di settembre, pare che adesso Activision abbia focalizzato la sua attenzione su un cheat noto come Engine Owning, sono dei cheat che si comprano su dei portali a pagamento. Questo tipo di cheat era stato già messo fuori uso da Activision a fine di settembre, ma pare che su questo sito, almeno stando alle dichiarazioni del portale Vice, avessero trovato un sistema per aggirare l'anti-cheat di casa Activision, e adesso nuovamente, con la nuova patch del gioco, quindi con la nuova patch di Warzone, pare si sia di nuovo arginato il problema. I cheat sono stati un grossissimo problema di Call of Duty Warzone, che sono andati a rovinare tantissimo l'esperienza di gioco sia dei professional player, ma anche dei casual player. Quindi speriamo che Activision sia riuscita ad arginare il problema e non sorgano dei nuovi cheat che vanno a rovinare l'esperienza di gioco di tutti noi. È circolata negli ultimi giorni una news clamorosa, si parlava di Microsoft che era pronta o avesse addirittura acquisito Ubisoft. Questa news è assolutamente falsa, così come l'immagine che è balzata da un social all'altro, e che tirava in mezzo addirittura Tom Warren, che è il signore editor di The Verge, per avere più veridicità. Quindi sia Microsoft sia Ubisoft hanno categoricamente smentito l'acquisizione di una società all'altra. Anche perché andare ad acquistare un colosso come Ubisoft significa fare un'offerta pubblica d'acquisto sul mercato, in quanto è una società quotata in borsa ed è soggetta a determinate regole, quindi non si può acquistare nello stesso modo in cui Microsoft ha acquistato Bethesda, che è solo uno studio privato. Per quanto grande è uno studio privato non quotato in borsa. Notizia più importante della giornata con la quale chiudiamo le news, A&D ha finalmente presentato le nuove schede della serie 6000, le cosiddette Big Navi, con il nuovo RDNA 2. Andiamo a vedere insieme le caratteristiche di questa nuova famiglia. Caratteristica comune e fondamentale di questa nuova serie 6000 di schede grafiche è la presenza di Infinity Cache, che migliora significativamente la banda di memoria nonostante il bus sia fisso a 256 bit, quindi l'affinamento del nodo di produzione a 7 nanometri ha permesso delle frequenze di cache maggiori del 30% rispetto alla famiglia precedente, sfondando i 2000 MHz di clock secondo i dati forniti da A&D. La prima scheda annunciata da parte di A&D è la RX 6800 XT, che presenta ben 72 compute unit, 16 GB di memoria GDDR6 ed è stato dichiarato come dispositivo ideale per giocare in 4K e la sua concorrente ideale di casa Nvidia sarà la RTX 3080. Questa scheda sarà disponibile dal 18 novembre al prezzo di 650 dollari. La seconda scheda presentata è la RX 6008, quella che andrà a rivaleggiare con la RTX 3070. Presenta 60 compute unit, ma sempre 16 GB di memoria RAM GDDR6. Le prestazioni ottenibili dichiarate da casa AMD sono superiori a una 2080 Ti, disponibile anche questa dal 18 di novembre al prezzo di 580 dollari. Andiamo a vedere infine il modello di punta di casa AMD, la RX 6900 XT, che presenta ben 80 compute unit, 16 GB di memoria GDDR6 e una potenza dissipata di oltre 300 Watt. Questa è la scheda che andrà a rivaleggiare con la RTX 3090 di casa Nvidia. Questa scheda sarà disponibile sul mercato a partire dall'8 dicembre al prezzo di 1000 dollari. Anche in questo caso sono prezzi americani, quindi andremo a vedere il listino europeo e il listino italiano che prezzi riceverà. Non ci resta quindi che aspettare queste due settimane per il rilascio delle nuove RX 6000, per avere poi un confronto che sarà sicuramente fatto da tutti i siti tecnici, quindi andranno finalmente a confrontare le schede Nvidia e le schede AMD. Andremo a vedere come si comporteranno all'interno dei giochi maggiormente giocati e maggiormente esigenti di risorse, per vedere chi finalmente sarà eletta nuova scheda dell'anno fra le schede Nvidia e le schede AMD. Bene ragazzi, per questa edizione delle news è tutto, l'appuntamento come al solito lo rimandiamo a due settimane, quindi credo che per quest'anno abbiamo avuto tutti gli annunci che stavamo aspettando, ma mai dire mai ci può essere sempre qualcosa di nuovo, magari da parte di Intel che sta lavorando all'undicesima generazione di processori. Non mi resta che ringraziare il buon Gabbo per le news in ambito videogiochi e l'appuntamento alla prossima puntata. Ciao ragazzi!